Questo appuntamento che vale una stagione, oggi soprattutto è importante girare pagina, risettare, perché le ultime giornate non sono state buone, qui si ricomincia tutto da capo. Per quanto riguarda me, secondo me anche per quanto riguarda tutta la squadra, noi il giorno dopo la partita abbiamo già risettato la pagina. Sì, una cosa molto importante, un obiettivo europeo molto importante, già delle ultime partite le abbiamo scordate, pensiamo solo al prossimo avversario. È vero che sarà un altro avversario italiano, sarà un'altra squadra con la quale abbiamo fatto alcune partite durante il campionato che sono state molto intense e molto difficili da tutti i punti di vista e soprattutto siamo qui per dimostrare che proprio queste difficoltà ci dovrebbero far crescere, ci dovrebbero far giocare molto molto meglio. A questo livello non si può scherzare con nessuno, la prima sfidante è Trento, allora dove vi può mettere in difficoltà Trento e cosa dovete fare invece voi? Io vorrei pensare solo alla parte nostra del campo. Noi dobbiamo cercare di ritrovare alcune sicurezze che ultimamente ci sono un po' nascoste da qualche parte e soprattutto cercare di continuare a battere bene come abbiamo fatto in precedenza, perché secondo me tutto parte da una buona battuta e cercando di allontanare l'avversario della rete. Ritorno a queste finali con i capelli bianchi, oggi eri l'unico capitano con i capelli bianchi, credo che sia un motivo di orgoglio ovviamente. Con un po' più di esperienza, con qualche cappello bianco in più, ma soprattutto con l'energia e con la voia molto molto più rispetto al passato di portare questa squadra a giocare alla fase finalissima. Anche perché hai visto cosa ha fatto ad esempio la Piccinini? Sì, sono molto contento, non me l'aspettavo proprio che una squadra italiana, che visto che tutte le altre erano proprio proclamate le vincitrici, le squadre più forti d'Europa, poteva vincere una Coppa europea. Sono state molto brave e soprattutto Piccinini ha trascinato la squadra dal primo all'ultimo punto. Spero e cercherò di ottenere lo stesso risultato anch'io domani.